Grazie Andrea, grazie anche per aver organizzato questo convegno, per averlo pensato sia come Istituto Nazionale di Urbanistica, come CRCS, un altro pezzettino di ricerca che abbiamo contribuito a fondare con Damiano Di Simile. Grazie perché per il consumo di suolo c'è sempre bisogno di parlarne, soprattutto in questo periodo che sembra tutto molto fermo, molto a crisi delle edilizie, insomma c'è un po' quasi abituato a pensare che in fondo non si muove quasi nulla, invece vedremo dai dati che non è così. Io ringrazio anche Ispra per aver accettato di ripresentare i dati che sono usciti in questi giorni, ma insomma a Milano e in Lombardia credo ce ne sia bisogno, credo che sia una piazza interessante proprio per riproporre il tema e per andare, insomma per approfondirlo in un convegno che è veramente interessante e anche bello ricco di novità. Dicevo che insomma sembrava quasi che la crisi ci avesse un po' messo al riparo ai noi, dico la crisi, non tanto le scelte politiche o scelte di, come dire, di legislazione, legislative normative. Vedremo dei dati che non è così, i dati che insomma verranno illustrati oggi anche per quanto riguarda la Lombardia ci dicono che la crescita c'è, è una lenta, inesorabile crescita che comunque fa consumare suolo anche, a volte suolo fertile, suolo che potrebbe essere utilizzato per qualcos'altro. Quindi un doppio, come dire, un doppio danno per il territorio, per noi, per chi ci abita, per chi abita questi territori. È una lenta crescita che non ha in qualche modo, non è riuscita ad assorbire anche una rigenerazione del settore edilizio. Insomma se ne è parlato tanto di come poteva essere interessante per un comparto in crisi, introdurre dei meccanismi completamente diversi, l'area di smesse, la rigenerazione urbana, e faticosamente lentamente si è avviato questo processo, ma abbiamo visto e vediamo che non è sufficiente per garantirci e per metterci al riparo da tutta una serie di condizioni negative che si sono verificate. Cito solo una su tutte che ci ha colpito, insomma, è stato creato un grande polo logistico nella zona di calcio, nella Bergamasca, uno dei più grandi, uno dei più grandi che sia stato creato, veramente una cosa massiccia che ha colpito il territorio in modo profondo. Beh noi ci siamo accorti che veramente è il maggior consumo di suolo che si è perpetrato nel 2016 è stato proprio questa questa montagna di cemento che è stata calata in una zona prevalentemente agricola molto molto soggetta perché c'è spazio all'espansione, parliamoci chiaro, c'è spazio, quindi lo spazio poi in qualche modo viene occupato, ancorché di alcune come dire situazioni di collegamento anche logistico ce ne sia bisogno, però dipende sempre da che come sono come sono fatte, quanto territorio interessano, quanto rubano all'agricoltura e alla possibilità di produrre e di fare economia anche in modo in modo diverso. Ma questo è stato veramente un episodio che ci ha abbondantemente colpito e non è finita perché in quella zona siccome di terreni liberi ce ne sono parecchi beh ancora vediamo le avvisaglie di una come dire delle lunghe mani sul territorio di altre situazioni che ci chiediamo se hanno un senso soprattutto perché molti sono legati all'e-commerce e quindi come dire a una situazione in cui tutti abbiamo pensato e pensavamo che un commercio diverso avrebbe portato, una modalità diversa avrebbe portato meno consumo di suolo, invece ci vediamo costretti a pensare che certo la rete, il virtuale ci aiuta, ci agevola ma poi finisce sempre per essere un atto molto concreto di devastazione anche di zone, di porzioni del territorio lombardo molto interessanti. molto belle, molto interessanti e che veramente rubano spazio a un'agricoltura che viene sempre più finanziata, sempre più agevolata ma che alla fine è anche la parte sempre più debole rispetto ad altri tipi di sviluppo e di economia e anche di speculazione. Dicevo che è interessante che questo convegno sia stato fatto qui, insomma si sia pensato di fare un punto della situazione, un grande punto della situazione perché insomma un po' il dibattito mi viene da pensare sul consumo di suolo è nato un po' anche insomma vorrei lasciare qualche merito anche alla Lombardia per aver consumato tanto ma aver introdotto anche un meccanismo per cui si è cominciato a parlare di consumo di suolo e si è portata poi all'attenzione anche nazionale il dibattito. Noi come Legambiente nel 2008-2009 avevamo proposto una proposta di legge di iniziativa popolare proprio per introdurre delle variabili e delle varianti rispetto alla normativa abbastanza inesistente sul consumo di suolo. Eravamo anche riusciti insomma 13.000 firme raccolte, un lavoro fatto anche in modo collettivo con altre associazioni ed altri enti, arrivati al Consiglio regionale, è caduta la Giunta Formigoni, sapete che per effetto delle leggi vigenti le proposte di legge cadono nel momento in cui cadono o si concludono le legislature e quindi abbiamo dovuto insomma in qualche modo siamo arrivati lì a un passo da una discussione più ampia che non avrebbe visto sicuramente la nostra proposta come dire adottata in toto ma ha avviato un grande dibattito e poteva essere una cosa molto interessante per poi andare oltre. Ci abbiamo riprovato, abbiamo pensato che dopo questa iniziativa che aveva anche avviato un dibattito territoriale molto ampio e interessante anche dal basso, vale vale appena di fare un altro passaggio. Vista la legge nazionale ferma, al palo, bloccata, in cui non si riesce a sbloccare questo meccanismo per proporre una legge esalazione nazionale che blocca il consumo di suolo, abbiamo visto che in Europa mancava una direttiva o meglio c'era, era stata una grande discussione, si era fermata, era stata ritirata e quindi bisognava in qualche modo fare in modo che non fossimo soli in questa battaglia sul consumo di suolo ma che ampliassimo il nostro sguardo e guardassimo oltre i nostri confini e così ci siamo inventati anche qui, grazie anche a tanti soggetti che ci hanno seguito, vedo Costanza Fratesi del FAI che saluto e che è assieme a noi insomma il FAI, uno dei promotori della petizione, ci siamo inventati questa petizione dei cittadini europei, quindi come dire con tutte le validazioni che ci ha dato la Commissione europea per accogliere un milione di firme in tutta Europa, 60 mila in Italia per dire, beh il movimento dal basso continua, c'è la necessità di mettere un freno al cemento di ricollocare la nostra, l'azione dei cittadini ma soprattutto di partire, di dare un messaggio alle istituzioni per andare oltre e riprendere in mano quella direttiva che è ferma e che dà una grande diversità e sproporzione rispetto non solo al consumo di suolo ma come vengono trattati suoli in generale dalle bonifiche all'agricoltura appunto alla cementificazione all'utilizzo per altri per altri usi, una disparità forte enorme grande che c'è tra gli stati membri e che forse deve essere in qualche modo colmata per avere una base comune su cui agire partire e avviare il dibattito territoriale. Insomma stiamo raccogliendo ancora le firme fuori avete visto all'ingresso un insomma i nostri ragazzi che vi invitano a firmare quindi vi chiedo anche di farlo si può firmare anche online abbiamo tempo fino ai primi di di settembre appunto per continuare questa battaglia che ha messo in campo 400 associazioni in tutta Europa quindi voglio dire anche un richiamo in diversi in diversi stati forte per poter per poter andare andare oltre e a riattivare questo dibattito di cui si comincia a riparlare anche in Europa ma su cui i veti incrociati sono molti e quindi un meccanismo che bisogna veramente in scardinare e rilanciare. Della legge nazionale dicevo prima ci auguriamo l'appello che credo venga anche da questo da questo tavolo lo si ricordava anche prima è proprio quello di come dire di dare di dare una svolta e vedo Massimo De Rosa deputato dei 5 stelle sappiamo che il percorso è difficile ferma il senato crediamo insomma che debba essere in qualche modo incentivato e fatto questo percorso non so se ci arriveremo a fine legislatura ma effettivamente servirebbe proprio per dare anche un quadro più più ampio a livello nazionale mi piace molto quello che diceva professor Pasqui prima la comunità delle pratiche beh oggi c'è anche bisogno di questo non è solo la questione di fare un dare una normativa sul per fermare il consumo di suolo che già sarebbe molto peraltro la legge regionale la 31 poi trasformata non ci ha aiutato per niente in questo percorso anzi ha riattivato appetiti che speravamo e pensavamo di vedere finiti in questa regione invece ancora si torna a fare cassa nei comuni ancora si torna a pensare che la speculazione su terreni fertili vergini comunque non non su aree dismesse abbia un suo perché ma le pratiche che a volte ci sono nelle istituzioni la consuetudine di pensare a un iter sempre uguale credo che sia uno delle altre grandi conquiste e rivoluzioni che bisogna mettere in pratica perché a volte le compensazioni ambientali sembrano poca cosa parliamoci chiaro se si fanno non si fanno è uguale intanto non si accorge nessuno questo guardate l'abbiamo constatato proprio in questi giorni anche con un'altra campagna che portiamo sui laghi lombardi che è goletta dei laghi ed è proprio in questi giorni e ci occupiamo anche di come stanno messe le coste dei nostri dei nostri laghi e ci siamo accorti che veramente di fronte a come dire all'utilizzo di un bene comune non succede quasi mai che si si imputi la stessa importanza a tutelare un altro pezzo di territorio che sia una compensazione che sia un vincolo che sia qualcos'altro e quindi questo fa in modo che alla fine come dire si occupi tutto il territorio disponibile lasciando le briciole alla collettività e alla comunità quindi questo è un altro passaggio importante che bisogna fare proprio per cambiare modificare il pensiero di anche degli amministratori di chi diventerà amministratore quindi insomma credo che questo sia un incontro utile per fare il punto della situazione su tanti aspetti partendo dal dato reale per arrivare poi anche e mi auguro che sia così anche una riflessione un po' più ampia rispetto alla sola ricerca e al solo dato numerico. Grazie. Grazie Barbara Meggetto e Sonia Cantoni.